Organizzato dalla Emanuele Sicignano Management con il patrocinio del Comune di Agropoli, il 14 marzo presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli andrà in scena Agropoli in moda. Un defilé di grande prestigio con una serie di ospiti d'eccezione a partire da Tommaso Scala, ex tronista del famoso programma tv Uomini e Donne, e Emanuela Titocchia, conduttrice tv e nella soppopera Cento vetrine, nella fiction Non smettere di sognare. Nel corso della serata, condotta da Sergio Vessicchio e Alessandra Dorsi, si alterneranno ospiti canori, cabaree di danza. La serata sarà mandata in diretta sul canale tv 636 di Cilento Channel e in streaming su www.cilentochannel.it.